La campagna single seat non è soltanto una campagna di riduzione della spesa, è soprattutto una battaglia di cambiamento, di credibilità delle istituzioni europee, proprio perché è inimmaginabile pensare che nel momento in cui si chiedono dei sacrifici grandi ai cittadini dell'Unione Europea si possa pensare di mantenere queste due sedi del Parlamento che sono perfettamente identiche, con compiti perfettamente uguali. E allora noi potremmo utilizzare quei 114 milioni l'anno che vengono sprecati così per questo dualismo inaccettabile per mille altre cose, penso al potenziamento dell'Erasmus, penso a politiche e programmi di lotta alla disoccupazione per i più giovani e potrei così continuare. Questa è la ragione per cui è fondamentale sostenere questa campagna, sostenere la petizione e cambiare al più presto per rendere le istituzioni europee più credibili e più vicine ai cittadini.